Si è tenuta lo scorso fine settimana nel cuore della città di Fermo la decima edizione dei muri fermani, l'evento organizzato dal pedale Fermano 20 già tra servizi e rifergomme in collaborazione con il Camfermo e con l'alto patrocinio del comune. E così domenica è nata in scena una gara ciclistica per dilettanti elite Under 23 denominata ai muri fermani Bastade Carlonis che metteva in palio la maglia di campione regionale Under 23. Era stata tanta l'attesa e con essa la voglia di vivere una bella giornata non solo sportiva a stretto contatto con Piazza del Popolo anche perché gli organizzatori dell'evento hanno per l'occasione raddoppiato l'impegno già profuso nella passata stagione per offrire ai tanti presenti una grande spettacolo. Si è gareggiato sulla distanza di 130 km con una prima parte pianeggiante di 56 in un circuito di 6,9 da ripetere per otto volte. Poi gli atleti sono rientrati in un tracciato ondulato che successivamente portava ai tre muri fermani con Piazza del Popolo che ha visto partenza arrivo e quattro passaggi. Al via si sono presentati 99 corridori in rappresentanza di 16 formazioni e con essi il vincitore della passata edizione il colombiano Augusto Rubio Reyes insieme a tanti altri atleti vogliosi di entrare a far parte dell'albo d'oro della manifestazione. Per quanto riguarda le compagini fermane hanno preso parte alla gara il team dei calzatori Remonte Granaro, la WPM Porto Sant'Alpido Monturano e la San Gemini MGK Vis. Oltre alla parte sportiva la piacevole novità è stata che tutti gli spettatori hanno avuto la possibilità di gustare le olive alla scolana della ditta dei Carlonis e le fave fresche offerte dalla Garden Fruit Distribuzione, il tutto rigorosamente gratis. La mattinata è stata dedicata agli amatori con il primo trofeo città di fermo. Lo start è stato alle 8.30 con gli atleti che hanno affrontato due percorsi, il lungo di 103,2 km e il corto di 75,4 km. Al vincitore di quello lungo Sirio Sistarelli è andata la maglia griffata da Giotra Servizi. Ad aggiudicarsi i muri fermani invece è stato l'Umbro Michael delle Foglie che con un'azione importante nata a circa 25 km dal traguardo e un successivo arrivo in solitario si è laureato campione del circuito Under-23. La gara si è decisa al km 98 quando al comando si formava un drappello di 10 unità composto da Bramanti, Tajani, Vedeschi, Vecchiato, Genuin, Pessot, Manuti, delle Foglie, Sovischi e Titi. Il pelotoncino guadagnava sempre più sul gruppo poi al km 25 delle Foglie ha rotto gli Indugi e si è lanciato in solitaria. Sulla salita di Madonnetta ed Ete il suo vantaggio è salito ad un minuto per poi aumentare nuovamente. Al suo inseguimento si è lanciato Tajani senza però riuscire ad agganciarsi. Delle Foglie ha continuato a pedalare e a braccia tessa ha colto il suo primo successo stagionale.